di interessi, di interessamento anzi, quindi da un lato per carità, bene che un parlamentare, un Presidente della Commissione si sia interessato, purtroppo a mio avviso, ma avviso anche di tanti giuristi che scenderanno in campo l'8 giugno a parlare, non so più quanti saremo perché se ne sono giunti tantissimi, l'idea è quella di creare una norma, cioè o creare una norma nel codice penale che riguarda i reati di violenza stradale.